Ciao a tutti ragazzi della TFG On Demand Allora, fermi tutti Nei commenti del nuovo video mi avete scritto Comprami il cazzo di mirini, compra il grip Ho speso tutti i soldi Ho comprato il mirino a tutte le armi che ho E i mitra, non i fucili a pompa Perché non i fucili a pompa Poi sarebbe abbastanza inutile il mirino Cosa è ammirare con un fucili a pompa? Ma è a caso? Ecco, ho messo il termite Ho messo il mirino e il grip Tu l'hai messo Jean-Claude Van Damme E adesso vediamo un po' Se riesco a meno a ammirare meglio Il problema è questo Inizia la partita e giustamente uno della mia squadra Si è sconnesso Quindi già partiamo in 4 contro 5 Ora, dove cazzo? Già non sai come è fatta sta casa? No, non so un cazzo Però no, ho giocato Hai già giocato in questa casa? Sì, ma non mi ricordo un cazzo Lì si stanno fuori E quindi qui dove vado? Vai dentro? Neanche i miei amici però vedo che hanno trovato qualcosa Non trattavo niente i miei amici Vabbè, lasciamolo qui L'ho visto! L'ho visto! L'ho visto! Dov'era? Dov'era? Era lì! L'ho visto, l'ho visto! C'era Vediamo, guarda Questo è il minino commesso ragazzi Il Red Hot Scythe Fa cagare, è un ammargo! Ecco! Che cosa di me viene il prezzo? Il prezzo è il minino più schifoso? Sicuro eh! Ovvio! E me hai fatto qualcosa di decennale Apri un buco E vedi? All'interno Perché il mio amico ti postano di qua? Lui sembra che sappia il fatto suo Lui sembra sapere il fatto suo Scusa, vedo che va tutto sparato Ma vediamo un po' E andiamo giù Mi metto così Dove cazzo sono le finestre? Ah, eccole qua! Ok Rompiamo tutto Vedo che non ci sia nessuno qua però adesso Ma è una scala? Sì! Ma... L'hai vista anche tu? Mi ha visto? Io ho visto un pelino rosso nato Un attimo, un istante proprio Eh vabbè Ma tu dimmi Come facessi a sapere che eravamo lì? Vabbè Ha visto che hai rotto No! Lui stava dominando prima che rompessi Beh Ha visto che qualcosa Per me ha avuto i trucchi Ragazzi abbiamo perso il primo round Però siamo uno in meno Quindi mi dà fastidio questa cosa Eh sì sì Siamo uno in meno Siamo due in meno Perché non è mai in squadra Quindi non è giusto Quindi siete in tre in meno Non è proprio giusto Perché eravate in squadra E come tre in meno Due No 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 Tu vari per meno due Ah io prendo adesso il castello Prendo il castello per difendermi Dai via Ho preso messo anche qui il merino Dai bravo bravo Non averlo no? Cioè nel senso Quindi che non devo sostituire le barriere Perché no? Cioè nel senso Ho capito che è facile da buttare giù Ma è sempre più difficile di un altro pannello Di legno Parlando di legno Ad esempio si può rompere Facilmente dando una Cragnata col fucile Invece questo no Si Carazziamo bene Perfetto Dov'è la forza Dov'è la forza Dov'è la forza Di quanto Questa è la bomba Che dobbiamo difendere Ora il problema è Dove cazzo Ah vedi mira Cosa faccio Ah anche questa è mira Quella che ha questa cosa qui Sì Non sparare a quella cosa Lì grazie Oh aspetta che rinforzo Anche sto lato Guarda Ecco Ecco via Rinforziamo tutto ragazzi Sono un castello Sì o no? Sì o sì Posso rinforzare qualcos'altro? E vedi se puoi rinforzare quella porta Lei Non posso rinforzare questo a caso Sì ma non ha senso rinforzare solo un pezzo lì Amico 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 Vado ancora all'esterno No all'esterno Questa qua era Questa qua è la trick Ecco lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi Dov'è? Sì Qua allora l'alma del panno è ancora È ancora Integro Integro Ma senti tutto una fucilazione qua Una fucilazione Qualcuno ha sparato È un gioco di È un gioco di dove si spara È normale che quello che non spari Aspetta un attimo che mi stendo qua E poi? Oh ho vinto Cazzo hai fatto una vittoria stando fermo finalmente Scusa ti rendi conto che li ho spottati tantissime volte? Sapevano la loro posizione Grazie a me Ah hai visto? Ah Ah Coglione Ovviamente non mio Hanno trovato Tu almeno ti stai ancora andando a incastrare in giro Aspetta io se riesco potrei lasciare il mio drone Non c'è lì Ma dove si scende qua? Ti ricordi dove sono le telecamere? Potete già iniziare ad abbattere Eh ti ricordi dove sono? Ma dovrebbe essere c'era la luce rossa prima? Eh luce rossa come se la usano Era qua intorno però Oh questo è già entrato Ma io dove l'obiettivo scusa È sotto di me Allora se è sotto di me Ma fai il contrario che vai sopra Aspetta che butto su tutto Ah così fai finta di averlo entrare per lì? Esatto In ogni caso gli faccio paura Perché loro non sanno adesso dove entriamo Bene 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 Aspetta che vado giù Aspetta eh Ok Andiamo un po' adesso Mettiamo il melino Objective contested Ma Cazzo dove era qua? Prima ne avevo visto uno qua dentro io So che era qua dentro Ci sposteranno eh 5 contro 1 Stiamo vincendo Grazie a me Ma Abbiamo vinto ragazzi Mamma mia quanto sono forte Cazzo quando non fai una minchia Sei forte Quanto sono forte ragazzi Siete terroristi giusto? Beh E quindi? Perché non li prende la sprovvista e fai saltare l'obiettivo? E' quello che mi c'è Pensavo anch'io si potesse fare Invece no Scusami ad esempio cosa Cosa perché non posso rinforzare questo pannello? Perché non puoi Vabbè adesso rimuovo questa E metto l'AMOLED panel Sai perché? You have been spotted Merda Dov'è? Eccolo Ok l'ho rotto Perfetto Sì ma mira il dito lì Cosa stai a ferma lì adesso? Eh vedi qua non può me lo fa mettere Perfetto Rinforziamo tutto la Tutti in levura ragazzi Ottimo Adesso ho finito l'AMOLED panel E c'è nel senso Brava 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 che metti quella cosa lì Adesso per il problema Dove entrano loro Aspetta Potrei rompere anche questo Sì ma tu hai ancora le cose Aspetta Sì ne è ancora uno Aspetta Veloce 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 Tan 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 Ah Uh 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 Hai visto? Chi è stato? Ah hai visto che te l'hanno buttato giù Che cazzo è stato? Aiuto Qualcuno ha un medikit? No eh? E' battlefield? Non sono un medikit Ma io sto qua adesso Vaffanculo Che schifo Dove cazzo sono? Ssssss È tutto uno sparatorio qua È tutto uno sparatorio È tutto uno sparatorio Aspetta un attimo Se faccio rischio No 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 Libero Libero Non sono all'esterno E non sono neanche qua Ok allora eliminiamo Non so dove cazzo sono Questo non va affatto bene Guarda lì Io non starei lì Guarda dove sei C'è giusto così eh Bravo linega Non mi era accorto di questo buco Ma sono un po' della merda qui dentro Perché? Ah stiamo vincendo Beh anche a morire adesso Sa dov'è Chissà dov'è il tipo Mi piace un sacco sta partita Perché ho vinto Tu eri convinto che quello di fosse il nemico? No no Sparavo a casa Guarda Ma chi è resto qui? Un medico? Sì c'è un dottore Quella volta che lo vedo? Ti dice Ah ti hanno sparato? Ssh Che mette il guanto di lattice E vedi che mi sta mettendo il guanto di lattice Ok perfetto Body cage room Ora Ora Visto che ho questa Non è il castello Via Riforziamo però Almeno il muro Esterno Qual è la tua abilità speciale? Io praticamente Niente Non hai abilità speciale Distruggere comunicazioni nemiche Ci sarò un drone Adesso si avvicina a me Lui fermi il segnale E muore Capito? Esatto È un uomo da pomodoro In teoria dovrebbe essere così In pratica non lo so Ora però Dove cazzo entrano loro? Potremmo entrare I nabidi fan di objective Come è? Non è che lei Non hai detto che dove ti si disattivava? Guarda che è dietro di te Non so perché non si è disattivato L'hai visto? Ah ti devo mettere questo? Si mi ha visto dove era Taffono Mettiamo così Lo mettiamo qui Perché questo gemma le comunicazioni Ah ma hanno 4? Ragazzi la prima volta scusa il mute Scusate Si vede Scusate 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 Mettiamo un altro qua Così sembra una tagliola No mettila davanti alla porta Così sembra una tagliola Così loro non sanno Eh ma gli sparono Ma sono stupidi Li fanno giro Dici? Sì Qua niente Ragazzi metto un po' di tutto quello che gemma le comunicazioni Vicino alle porte In teoria Ditemi voi se sto facendo una cosa giusta Per me sto facendo una puttana Chi è che spara? Chi è che spara? Ali dalla porta dalla porta Bastardo Brutto bastardo Ma scusa io sarò scarso Ma il mio team è uguale però eh Presto qui? Hai visto cosa ha fatto? Mi chiedo figale Si stava ricaricando In che mano teneva lo scudo Allora adesso vado dietro la montagna Dov'è? Dov'è? Dov'è la montagna? Eccola qua perché è lenta Ci sta che è lenta però eh Sto dietro io di te tranquillo Non sono come gli altri Che uno usa la montagna Perci ti sparo io in testa Ti sparo? Dico minchia Ti sparo in testa GGIGN Aspetta Oh metti lo scudo però Aspetta Se perdi sta partita Amazza tutti i tuoi compagni Perché? Perché di sé No Ma no Dai Mi banano per piacere Ma è giusto Dai aspetta che Tutti dietro la montagna Tutti dietro la montagna Che cazzo è stato? Io non l'ho sparato Perché non so che devo sparare A chi sparo? Sparo È morto è quello lì il mio amico No 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 Sì sì l'ho ucciso Grande la montagna Utilissima Ma è dato il C4 C'è un altro qua Ma che cazzo è che mi spara? Dove cazzo era? Solo è tratto il C4 Ma Non stava neanche sparando a me Stai sparando a quello fuori Sì vabbè comunque Eh DG Sono forti o sbaglio? Niente ragazzi sì Sì però non è giusto Mi dobbiamo mettere il contente Che non so giocare In base a quali parametri Che sono sempre morto Ogni partita Che l'unica partita Che è l'unica partita che mi fa Quando faccio un cazzo Scusa eh Quella di prima hai vinto Sentili Oh ma questo giocatore Quando ha venuto ha vinto Oh due Cosa ha fatto in queste partite? Un cazzo Bene lo mettiamo con la gente scarsa Non che vinco la partita Per punirti Non hai fatto un cazzo Quindi ti mettiamo con la gente scarsa Oh ma questo giocatore Ha vinto due partite Allora è fortissimo Mamma mia Ho già fatto il castello adesso Che è quello che sto usare meglio Che uno che usa il castello E' ancora morto No mettiamo all'alba Red Pan Tanto un bel bug Non ci sono notato Enemies fanno gli oggetti Così subito Come se Tick e tac Sembra quasi Tick e tac L'hanno già trovato Perfetto Perché mi sembra che sia sempre Nello stesso punto Sembra anche a me Effettivamente Così eh A spanne In 30 secondi Adesso devo mettere Perché hai rinforzato questa Che c'era la tagliola davanti Eh beh meglio Allora possiamo Questa Muovi Due secondi veloce Via 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 Ecco è morto Adesso muoio Adesso muoio Ok adesso perfetto Ora Adesso ti stendi sul divano Dove cazzo mi metto io Questo ho già male comunicazioni Adesso la fa ancora Li metto qua Aspetta eh Andiamo alle telecamere No 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 merda Andiamo a sapere qua Eccolo là Scanalizzati Scanalizzati Due 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 Tre Sono tutti lì Tutti lì Cerato una granata Sparate a casa Cazzo Continuo a scandalizzarli io eh Merda mi hanno rotto la telecamera Sono di qua Li vedi Li vedi Bastante di merda Ma parca puttana Ma sparali No parca droga Ma tu cosa cazzo Ti metti davanti Che palle Tutti i secondi di partita Questo è stato fermo Abbiamo vinto Abbiamo vinto No avete perso E ho fatto un assist No Orange Team Ha vinto No deve esserci qualche errore Fa stivio Come ne ha esserci qualche errore Lì Come si ha vinto una partita Total defeat Hai perso Ma siamo noi Orange Team Hai vinto No ho vinto loro E perché si torna Steam win Ah Blues Merda Assista Orange Ciao a tutti ragazzi Basta Non è giornata E sto gioco qui Mi fa troppo incazzare Ciao a tutti E al prossimo video Sì lo so sono scarsa Devi giocare meglio Vaffanculo Vedete i video di qualcuna No No Vaffanculo 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 Vaffanculo